Uccisione confermata Siete pagati per uccidere, quindi fatelo Siete pagati per il minato Siete pagati per il minato Attivazione sensore UAB pronto all'uso Ora è morto CUAB pronto TACOM, mandate un CUAB CUAB pronto Quanta per cento UAB uscito dall'area operativa Dardo sensore usato Addio Lo costino è rimosso RECOGNITORE RECOGNITORE UORTOG in attesa di istruzioni Minaccia distrutta No Un'altra Nessun Un'altra Un'altra Da Impulso visivo pronto. Impulso attivato. Torg a terra. Nemici marcati uccisi. Torg a terra. Uso un dardo sensore. 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 Uso un dardo sensore.